let's go bitches sono power il vostro guardiano preferito scusate se sentite una voce un pochino strana ma sto male o sono raffreddato e come vedete in sottofondo e come avete già visto dal titolo oggi vi parlerò del tocco malefico del touch of malice una delle mie armi preferite vi spiegherò quest'arma esotica come funziona in cose forte in cosa non è forte e come prenderla quindi via il video la quest del touch of malice inizia tramite un'impresa da prendere da eris con l'uscita del raid se avete fatto le imprese di eris durante comunque dlc eccetera eccetera non avrete nessun problema comunque l'avrete già presa bene dovrete prendere ben tre pezzi in questo caso due nel raid uno dal sacerdote uno dalle maliarde e uno ovviamente da oryx il boss finale consegnarli a lei se non sapete bene come battere oryx vi consiglio di guardare la guida che ho fatto su red bull di cui trovate il link qui sotto vi consiglio andarla a vedere una guida fatta molto bene con da molti pop di ben due giocatori mia di un altro giocatore in modo che possiate vedere cosa succede cosa fare durante tutta la situazione dell'encounter e viene spiegato passo per passo fase per fase ma passiamo subito al continuo di questa quest finita questa quest dovremmo portare a eris morn delle parti d'arma 50 parti d'arma in questo caso dovremmo portare anche delle spore larvali e 25 in questo caso e ben 50 frammenti d'atmio per farmarli sapete già la storia andare con un cacciatore o comunque se avete qualcosa con voi un amico cacciatore per andare a cercare i frammenti d'atmio nelle casse sull'astro corazzata una volta fatto questo step dovremo andare ad uccidere la metta intramontabile il nuovo assalto come vedete qui dal gameplay dovrete fare la metta intramontabile ma non uccidere subito il boss dovrete trovare un cavaliere giallo che si troverà lì e rubare la sua essenza una volta presa l'essenza eris morn vi chiederà di prendere ben 45 frammenti calcificati prendere 45 frammenti calcificati è molto difficile ma ora vi dirò io come fare trovate qui sotto il link a un post di reddit questo post di reddit vi dice frammento per frammento il numero del frammento proprio dove trovarlo attraverso una breve guida vi dice dove trovarlo negli assalti nelle missioni nelle pattuglie e perfino nel ride una volta visto quali frammenti calcificati avete sul grimorio andate su bungee.net andate nel vostro grimorio andate su nemici e andate sotto la spunta book of sorrow una volta andato lì avrete tutti i frammenti calcificati che saranno indicati con i numeri romani e quindi andateli a confrontare con quelli con reddit cercate quelli che vi mancano e collezionate nei 45 una volta presi i 45 frammenti calcificati dovrete andare su focus che sarebbe l'asteroide che si trova su marte dove abbiamo iniziato il gioco praticamente dove tutto è iniziato deve anche finire lì arriveremo fino al boss finale per chi l'ha già fatto è un'arena circolare su due livelli dove ci sarà la shadow of oryx cioè l'ombra di oryx un'altra volta sponeranno tantissimi nemici è veramente difficile serve luce 2 e 90 mi pare se non sbagli per fare quest'impresa quindi ragazzi il mio consiglio è cercate aiuto da altri due guardiani come voi magari che devono fare la quest in questo caso e mentre state facendo la quest mentre state cercando di uccidere la shadow of oryx sponerà in questo caso sempre un'altra maliarda da cui prendere dell'essenza dell'abbondanza una volta presa questa essenza potrete finalmente uccidere la shadow of oryx lutare e tornare vittoriosi deris e prendere il vostro touch of malice il touch of malice è un'arma veramente forte perché ha una cadenza più veloce dello strumento mida quindi vi consiglio veramente di usarlo è veramente forte specialmente il suo perk esotico che è autofuoco lo rende veramente forte e facile da usare ha un'ottima stabilità e si può raggiungere una gittata veramente massima in modo da infliggere tanti danni anche a lunga distanza i suoi perk diciamo esotici sono veramente forti specialmente il primo che è occhio del ciclone praticamente più la vostra vita cala più la maneggevolezza e la stabilità dell'arma aumentano poi l'ultimo perk è quello che è secondo me fortissimo del touch of malice praticamente quando voi rimanete con un colpo il vostro unico colpo nel caricatore si ricarica in continuazione al costo della vostra vita della vostra salute questo colpo infligge tra l'altro danni aumentati è come se aveste round finale sempre e tra l'altro se fate un 3 kill in rapida successione potete anche recuperare vita è fortissimo questo perk esotico specialmente durante il ride quando avete laurea di immunità quando siete invincibili all'interno di quell'aura perché potete sparare in continuazione tenendo premuto il grilletto e shottare praticamente chiunque il vostro dps sarà altissimo io spero vi sia piaciuto questo video questo spotlight sul touch of malice il tocco malefico io vi saluto bitches ci vediamo al prossimo video let's go guardiani io vi saluto qui io vi saluto qui io vi saluto qui